...più quei locali in quel modo, voi perché continuate a farlo? Allora perché i comuni non vengono prevedimenti? Ma questo è un problema che non riguarda noi, allora voi dovete andare in comuni e chiedetelo al comune, non dovete continuare a perpetrare un abuso ai danni di un comune, di persone che ci vivono, ma appunto la regola va rispettata. Andiamo ragazzi, andiamo, andiamo. Scusate, a norme di legge, voi, quei locali, non li potete usare, mi scusi, avete detto? Prima o poi noi sentiamo. No, 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 non voglio essere ripresa io, riprendate. Ok, ed io dici, non è giun certo tutta fetta cosa che sta dentro fuori. No, non voglio essere... Tu sei italiano!